Come state? Ben ritrovati, un saluto. Vi ricordo come sempre di commentare numerosissimi, di lasciare un like e di iscrivervi da queste parti. Insomma, qui avete capito. Volevo commentare con voi una cosa pazzesca vista ieri. Una cosa incredibile da mettersi le mani nei capelli. Scusate perché tolgo la suoneria. Ecco, ora ve la faccio vedere a schermo pieno la parata di Mignon nel finale con la faccia. Ma non è che si è ritrovato la palla con la faccia. Lui sposta la testa perché capisce che in quel momento può prendere la palla soltanto con quella parte del corpo. È un intervento da un metro, pazzesco, clamoroso, incredibile, che fa vedere davvero un giocatore incredibile. Scusate la ripetizione, pensate che aveva pure la febbre, 38 e mezzo, settimana complicata e alla fine ha salvato il Milan, ha salvato anche Pioli. Guardate, pam, lì, paratona, incredibile, che deve far riflettere però, attenzione, perché lì il Milan ha rischiato di prendere il terzo gol uguale, dopo quello di Skriniar, dopo quello di Sansone. Cioè, tap in, colpo di testa, intervento e palla che finisce su secondo palla dove ce n'è uno tutto solo. Così anche ieri, con Skriniar, con Sansone, questo deve far riflettere. Ma l'intervento è pazzesco, che poi tu dici lì comunque hai paura anche di, cioè, è vero che fai il portiere, però hai paura di farti male. È andato a parare, quella è una parata con la faccia. Poi aveva fatto un'uscita prima altrettanto pazzesca, ricorderete, su Beltran, in tutto in una serata in cui non stava bene. Il giocatore è fortissimo, e anche se ogni tanto qualche errorino lo fa quest'anno, però, insomma, avercene. Ditemene che ne pensate di questo intervento, e anche del fatto che Milan fa sempre trovare sul secondo palo il giocatore solo. Basta, bisogna imparare dai propri errori. Commentate, lasciate un like, iscrivetevi qui, vi aspetto per altri aggiornamenti. Ciao!